No? Ma è da ridere, dai! No, è una prova, dai, è una prova! Vuoi staccare anche sul mio primo piano ogni tanto? Vuoi, vuoi, vuoi! È chiaro che è una cosa da ridere? Tieni, tieni, tieni! Dici che ci vuole provare! Davide, dì qualcosa! Vai avanti, scherzo, scherzo sempre! La scena finisce con lui e il quattro, il collaborativo, fa questo gesto! Ma se non lo sai, non lo vogliono tutti bene! Sì, ma solo in apparenza! Se vuoi te lo faccio io! Beh, oddio, più o meno! No, siamo tutte femmine, terrazza, con un unico maschio! Ma non possiamo dire, no! Ma non potete immaginare! Guarda come siamo abbardate tutte! Guarda Cristina! Wow! 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 E sti due che fanno? Un lavoro che mi ruba un'energia! Ma come? Mi pare che lei ama tantissimo! Amare! Amare! Che è tutto il mio! Siamo tutti un po' esauriti! Ma io guardo la quarta parete io... Ma cos'è il fai? È mortaccio! Oh! E qui c'è l'altro gruppetto! Ma è buio, non si vede... Non si vede tanto! Ma adesso non so se ci serve una poltrona... Ma adesso... Un attimo! Bene, devo staccare, devo staccare Davide! Lasciami! Non mi toccare Davide! Non mi toccare Davide! Non mi toccare Davide! Dopo una giornata! No! No! È la passata per il micro uno degli altri! Non tutto! Davide, per favore! Bene, è stato un piacere! Alla prossima! Allora ragazzi, proviamo!